Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguri appena morto, il noto attore italiano, l'Italia intera è a lutto per la triste quanto inaspettata perdita e prima di saperne di più, prima di scoprire chi è mancato, vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, è stato un triste risveglio per tutti gli appassionati di cinema, soprattutto degli anni 60 e 70, ci lascia un personaggio che non può non rievocare bei ricordi e con grande rammarico che il primo ane di Marco Liguri annuncia la dipartita dell'attore italiano Arnaldo dell'Acqua, uno dei più noti stuntman del cinema italiano nel suo curriculum, anche diverse esperienze da attore, il noto artista è morto martedì 23 luglio a Roma all'età di 86 anni apparteneva ad una famiglia di cascatoria lavorato al circo e come detto è stato lo stuntman di importanti attori, il più importante senza dubbio Bud Spencer e lo ricordiamo in film come lo chiamavano Trinità, altrimenti ci arrabbiamo e gli invincibili tre, Arnaldo dell'Acqua è stato a tutti gli effetti l'alter ego del mitico indimenticabile e straordinario Bud Spencer e come è possibile vincere dall'immagine, tra i due c'era una somiglianza davvero incredibile, Arnaldo dell'Acqua originario di Campobasso è mancato, ha 86 anni, il primo ane di Marco Liguri ricorda un attore e uno stuntman italiano la controfigura di Bud Spencer amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguri, il canale dei video di Cronaca, seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguri, psicologia e crescita persone